Bella Fernando, dove sei? Cosa stai facendo? Yo, what's up, man? Per le 8 e un quarto, 8 e mezza, ci si becca zitto Per le 10? Tu stai zitta? Ora, conta vale, questo? Vabbè, per le 8 e 8 e mezza, ci si becca la villetta Non ero il pari del bouchon Ester vorrebbe stare a la villetta Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.